alice abbiamo un problema tu hai un problema mi deve aiutare ti prego no c'è un contest per band a tokyo e voglio assolutamente partecipare ma tu non è una band band si è sciolta ricordi appunto è proprio questo il problema tu mi devi aiutare a trovare dei musicisti per una nuova band ti prego va bene ti farò una locandina però se i paghi buongiorno io ho sentito che state facendo le audizioni sono venuto qui per farmi sentire come sono bravo a suonare il basso va bene posso va bene grazie posso fare un pezzo tutto mio purtroppo abbiamo dei problemi dell'audio però io spero che gli sia piaciuto qualche possibilità ringrazio la saluto buona giornata signor antonio mi ritorni dietro mi avevo dimenticata si 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 mi dica buongiorno di carica che per andare al concetto poi devo sapere ci sono le domande ok la prima è ti piace piaciare si viaggio spesso ma io sono pugliese si mangio il sushi però per le frisco le cozze ok la ringrazio va bene adesso avanti prossimo buongiorno buongiorno io sono qui per l'audizione per i contest di tokyo ok e vorrei cantare zombie zombie dei cranberries va bene allora ho la base qui allora è già iniziato c'è l'altra strofa 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 Però, non so, ho un po' paura di quella verità. Ah, e lei mangia il sushi? No, non mi piace il pesce. Ah, ok, le faremo, aspetta, aspetta, ma sì, le faremo sapere. Va bene, la ringrazio. Arrivederci, arrivederci. Ciao Alice, mi chiamo Simone, faccio il cantante e ho visto in giù le locardine per questa audizione. Ci chiederei tantissimo ad esser preso, però intanto ti faccio sentire come il canto e poi speriamo. Fare nel mondo un pantheon di uomini diutare E in un salvaggio, e in un salvaggio abbraccio Tutte le genti amare E in un salvaggio abbraccio Tutte le genti amare E spero che vada bene Poi ci sono altre cose che devi sapere Dunque, io ho viaggiato una sola volta in aereo, ma ho avuto già veramente troppa paura Non sarei più capace di salirci Proprio l'aereo per me Fuori discussione E... Non so se possiamo Allora, in inglese Guarda, in inglese so I am You are E... Poi mi fermo E... Il sushi mi piace Perché ho saputo che si potrebbe mangiare il sushi Mi piace Però non so se il sushi con me Io sto mangiare E... Questo è quanto Speriamo Grazie mille Grazie Le faremo sapere Ciao Alice Mi chiamo Tita Fellegara E... Sono una musicista Una pluristrumentista Che suona titana Tiroforte E clavecemo Vorrei partecipare al concorso che hai detto Ehm... Perché... Citerai proprio Quindi ti faccio sentire 50 specie di una pop Come mia ambizione Verde, truccate, anni 60 Ciro del centro Speriamo una banda Rosse di fuoco Comincia la tarda Si vivello Che non c'è capata Invece alla tarda Un'altra messa E' un po' di baccata Quanto è bella La vicino Con i mari Sono di pesi Quanto è bella Quanto è bella Che non c'è Quanto è bella Quanto è bella Quanto è un giro Che non c'è Quanto è un po' di pesi Quanto è bella La scritta che Non voglio soppre Inizio Che non so la ruffa E' una bespa Una giornata Non ho E' una bespa Domenico E' una bespa Prenderà 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 Se non c'è E' una bespa Un giorno E' una bespa E' una bespa Domenico E' una bespa Domenico E' una bespa Domenico Di avermi ascoltato E spero di Incontrarti presto Alice so che Per partecipare A questo contest Bisogna rispondere A tre quesiti Importanti Allora La prima domanda Ho detto che È stato di sapere se Io parlo inglese Allora L'inglese è un po' Romastico Però sinceramente Io so che Che tendenzialmente Se non sale cose La perfezione Non si lancia In certi momenti Per cui Io No Diciamo che Mi vergogno E mi rifiuto Di parlare in tese Due Mi piace moltissimo Viaggiare Ho preso tantissimi aerei In vita mia E' una cosa che Mi dà Gioia Volare Terzo Però io Sushi Non mangio Dispiaci Ma è una cosa che Proprio non sopporto E mi dà fin fastidio A me piace la carne Quella bella rossa Il sangue E quindi Queste cose Io Sushi Non riesco a pensare Minimamente a mangiare Del pesce crudo No 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 Assolutamente no Grazie Le faremo sapere Il sangue 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 onne Il sangue Il sangue Il sangue Grazie a tutti. Allora ragazzi, qua mi chiede se viaggiamo in aereo. Io in aereo, a parte che ho paura. No, in bicicletta andiamo. Monopattino, monopattino più contemporaneo. Si mi conti qui nell'aereo? Ma è fatti, è una roba luttima. Poi mi chiede se sappiamo l'inglese, vero. Inglese? Tedesco? Dolce, no, c'è qualcosa di vero. Sì, io faccio fatica a ricordarlo però, proprio italiano, proprio italiano. E poi mi chiede se mangiamo il sushi. Sushi. Sludo. Io sono vegetariano, e a me? Pesce puzza, pesce puzza. Poi il riso. Sì, speriamo che vada a me le risposte. Vediamo, sì. Vediamo. Dai, ciao. Ciao, grazie. Grazie, vi faremo sapere. Alice, come sono andate le adizioni? Eh, di qui non prendo l'aereo, non mangio il sushi e non parlo in inglese. Io, no, non ci siamo. Cioè, proprio, no. Sei spacciato. No, se vieni tu con me, saresti perfetta. Canti, parli inglese e sarai mia mia amica. Io? Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Why has he become Lex's boyfriend? Why has he become Lex's boyfriend? And the winner is... There was a boy that I met in the game and we... We were both friends and we... We spent a lot of time together but one day He told me that he had... He had a good friend, yes I loved him but now... I was okay with it... I was okay with...